Come trovare un buon Forex Broker, una guida per i trader Il Forex Trading è un mercato globale in cui i trader acquistano e vendono valute estere al fine di ottenere profitti. Una scelta cruciale per ogni trader è quella di selezionare un broker Forex affidabile. Il broker svolge un ruolo fondamentale nella tua esperienza di trading, quindi è essenziale prendere una decisione informata. In questo articolo, esploreremo i passaggi chiave per trovare un buon broker Forex. 1. Regolamentazione e licenza Il primo e più importante aspetto da valutare in un broker Forex è la sua regolamentazione e licenza. Assicurati che il broker sia autorizzato da un'autorità finanziaria rispettata e rispetti gli standard di sicurezza e regolamentazione. Alcune delle principali autorità di regolamentazione includono la Commodity Futures Trading Commission CFTC negli Stati Uniti, la Financial Conduct Authority FCA nel Regno Unito e gli European Securities and Markets Authority ESMA in Europa. 2. Costi e commissioni I broker Forex guadagnano attraverso i costi di transazione, quindi è importante comprendere le commissioni che applicano. Verifica le commissioni di spread, differenza tra il prezzo di acquisto e di vendita, e qualsiasi altra tariffa che potrebbe essere addebitata, come commissioni di rollover per posizioni aperte durante la notte. Cerca un broker con commissioni competitive e trasparenti. 3. Piattaforma di trading La piattaforma di trading fornita dal broker è la tua interfaccia principale con il mercato Forex. Assicurati che la piattaforma sia user-friendly, stabile e abbia tutte le funzionalità necessarie per le tue strategie di trading. Alcune delle piattaforme più popolari includono MetaTrader 4, MT4, e MetaTrader 5, MT5. 4. Asset e coppie di valute offerte Verifica se il broker offre una vasta gamma di coppie di valute e altri asset che intendi scambiare. Un'ampia selezione di strumenti finanziari ti darà più opportunità di trading. 5. Leva finanziaria La leva finanziaria è un'importante considerazione nel Forex trading. Permette ai trader di controllare una quantità maggiore di denaro rispetto a quanto ne abbiano effettivamente investito. Tuttavia, la leva finanziaria comporta rischi significativi, quindi è essenziale capire come funziona e utilizzarla in modo responsabile. 6. Servizio clienti Un buon servizio clienti è fondamentale quando si tratta di questioni tecniche o di supporto. Contatta il servizio clienti del broker e verifica quanto siano disponibili, professionali e reattivi alle tue richieste. 7. Recensioni e reputazione Prima di impegnarti con un broker, leggi recensioni online e cerca feedback da parte di altri trader. La reputazione del broker è un buon indicatore della sua affidabilità. 8. Educazione e risorse Alcuni broker offrono risorse educative, analisi di mercato e webinar gratuiti per i loro clienti. Queste risorse possono aiutarti a migliorare le tue abilità di trading e prendere decisioni più informate. Conclusione La scelta di un broker Forex è una decisione cruciale per il tuo successo nel trading. Prenditi il tempo necessario per valutare attentamente i punti chiave menzionati sopra e assicurati di scegliere un broker che soddisfi le tue esigenze e obiettivi di trading. La ricerca e l'attenzione ai dettagli possono aiutarti a trovare un broker Forex affidabile e adatto alle tue esigenze. Condividi, iscriviti e unisciti alla nostra nuova avventura su YouTube.